Ho sbagliato il fake, il tempismo Ma perché non riesco a segnare? È troppo forte ragazzi, è il più forte al mondo Molto probabilmente Più serio deve finire così il video, che triste Amici YouTube Benvenuti in questo nuovo video Sempre sul grind Su sideswipe Dobbiamo continuare e prendere Almeno il grand champion E visto che comunque I video su sideswipe vi stanno piacendo molto Ne desiderate sempre di più Siete molto golosi Vi ricordo come sempre Che molti tra di voi Non si sono ancora iscritti al canale Molti visualizzano senza iscriversi Quindi se volete darmi un ulteriore supporto Mi raccomando l'iscrizione Oltre che al mi piace, al solito commento dove dite Fatemi sentire la vostra presenza A livello di iscrizione mi piace ovviamente Non di altro Ha provato a buttare Tipo su la punta Ma nada Goal shot Ah ho missato, va bene Missalo pure lui La madonna Prendiamo un attimo di tempo Non mi sta facendo capire nulla Ha missato il riso Quindi subito push Fakeiamo Eh bravo GG Ho sbagliato il fake Il tempismo Motto What a save Cazzi parata mi ha fatto Bella parata Bel game questo Minchia Eh me lo fa Me lo fa Bel game questo Ok mi devo concentrare Bravo Ah bravo Parco tu Questo qui è fortissimo Cazzo Fake ancora Pensavo che il pass è subito Ah bravo Oh mi sta scoppando Mi sta distruggendo Questo qui mi sta completamente Asfaltando Perché Sto giocando davvero male Sta partita Quindi si Merito suo Ma minchia sto facendo Diffici veramente imbarazzanti Direi che questa è GG Ciao Veramente una bellissima partita Molto entusiasmante Buono Mamma mia Come ti ha mandato Al baretto qua Bello Minchia Che cazzo di tiro Volevi Amico la porta è di qua La porta è di qua Adesso mi scopa Me lo meriterei Me lo sarei meritato tantissimo GG GG Avrei potuto e dovuto Tornare dietro Buono il possesso qua No Fortuna ha sbagliato Che cosa sta succedendo In questo game Buono No vabbè Madonna che fastidio Non è che magari sbaglia Boh Prendere il palo No no Zero Subito Entra Adesso lo recupero Adesso lo recupero Adesso lo recupero Ma perché Non riesco a segnare È un muro Cazzo di muro Questo qui Guarda 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 Basta È troppo forte Ragazzi È il più forte Al mondo Molto probabilmente Guarda E' fortissimo questo ragazzi E' fortissimo E' fortissimo Ma cos'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Non ho mai visto una roba del genere Mi sta sfondando il culo Ho vinto Questa è vinta ragazzi Vabbè Scherzavo Mortissimo questo GG Che nei video di prima Simu ci stava tipo mettere all'inizio del video Come facevi prima le intro con Il tipo che avevo fatto goal E dicevo adesso si rimonta Adesso si recupera tipo E poi parte il video Allora Sai che me lo fa? Non lo boost Eh lo fa lo fa lo fa Va bene 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 No dopo questa non stacco Gioco con i sub Pichiamo Nooo Eh l'ho pisciato Fuori Perfetto Fake Fake ancora Fake Altamente c'è i coglioni Così qui eh Madò What a save Bravo Nice Buono A filo del palo proprio Eh ho sbagliato Gli ho la passata Devo fare goal shot Nooo Nooo Bel tiro Caso Bel tiro Fake Sono stupido Che palle Era un goal shot Telefonato Nooo 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 Non me lo dico Nooo Più serio Deve finire così il video Che triste Nooo 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 Nooo